Dobbiamo salvare assolutamente i nostri capelli, Melina ti prego apri in fretta, non vediamo l'ora di venirti a trovare Devo assolutamente dare una bella rinfrescata, riprendere un po' il colore, un bel taglio, un bel trattamento che solo da te trovo Perché tu non sei una semplice parrucchiera, ti svelo un segreto Cara Melina, sei una specialista del colore e non vedo l'ora di venire da te Mi mancate tutti, vi mando un grosso bacio a te e al tuo staff Mi raccomando, tutti da specialisti del colore, avremo, o meglio avrai Melina la fila peggio che all'esse lunga Te lo garantisco, perché qua c'è un disperato bisogno di te Un bacio e mi raccomando, stai a casa